Estracquista Ecolat ed entra così nella compagine di Sei Toscana, rafforzando la sua partecipazione pubblica nella società che gestisce i servizi ecologici integrati nella Toscana del Sud. La Multi Utility ha infatti acquisito il 100% di Ecolat, la società attiva nel settore dei servizi ambientali e il ciclo dei rifiuti a livello regionale e socia di Sei Toscana, diventando il socio unico dell'azienda. Ecolat è titolare di un impianto di selezione e valorizzazione dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate e multimateriale dei comuni nelle province di Grosseto, Arezzo, Prato e Firenze e poi gestore della stessa area del centro di raccolta del comune di Grosseto e di una piattaforma di stoccaggio di rifiuti recuperabili urbani. L'acquisizione totale di Ecolat consente così a destra di affermarsi ulteriormente nell'attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, strategica per la crescita e il rafforzamento del gruppo, nell'ottica di svolgere in misura crescente il ruolo di Multi Utility. Con questa operazione, ha commentato Francesco Macri, presidente di Estra, ci mettiamo a disposizione con spirito costruttivo di un territorio dove siamo già presenti, anche per repristinare una governance pubblica in un servizio molto rilevante per la qualità della vita dei cittadini.